Ecco l'entità Jill che si manifesta da decenni attraverso una donna ormai anziana che parlerà tra l'altro della paura della morte, dell'amicizia e dell'importanza di iniziare a conoscere i propri limiti. A parere di chi parla, queste comunicazioni sono molto più utili, almeno nel presente, di altre che parlano di alti insegnamenti. La gente infatti ha bisogno di avere risposte per migliorare la sua vita. La paura dei uomini nasce con la nascita e finisce con la morte. Perciò approvate, accettate questa paura medium che sempre si sente insicura. A proposito della morte, occorrerebbe che più spesso anche persone più giovani trovassero momenti di riflessione serena, anche quelli, soprattutto quelli che hanno avuto conoscenza di cosa avviene nel momento della morte o poco prima di tale evento. Perché più approfondite questo evento ineluttabile e soprattutto veramente importante per voi, più amerete la vita. Sembra un paradosso, ma vi assicuro che questo contatto non fa altro che rendervi più sensibili alla bellezza della vita, alla curiosità che aumenta per quanto riguarda tutto ciò che circonda la materia, ma soprattutto all'amore. perché man mano che si avvicina, perché voi avrete poi la sensazione di quando si avvicina o meno questo momento, voi assumerete sempre più consapevolezza, cosa difficilissima, miei cari, soprattutto per le persone che hanno la fortuna di avanzare con l'età, perché sapete bene che a prescindere dalle malattie avanzare con l'età significa incrudalirsi, cristallizzarsi e soprattutto diventare più negativi che positivi. Invece questo piccolo avvicinamento, direi affettuoso quasi, con questo passaggio, con questo travalicamento che dovrà avvenire, vi farà amare di più, prima di tutto voi stessi, nel senso di autostimarvi vi è più, ma soprattutto di amare anche gli altri, perché gli altri sono come voi, di aiutarli meglio, perché voi credete di non poter aiutare, ma siete in condizioni enormi di grande aiuto. Attenzione, che non sia un aiuto di potere, che non sia un aiuto per poter prevalere o per caricare il vostro ego, l'aiuto è anche un sorriso, un saluto a una persona che non conosci. Quindi questa predisposizione verso l'altro, così difficile, così rara, da cosa nasce? La predisposizione, la non predisposizione, nasce dalla paura. Ecco, ritorniamo al solito discorso. E' la paura che vi fa essere così diffidenti, così chiusi in voi stessi, così aggressivi per non essere aggrediti, così sulle difese. Perciò, stranamente, questa sera voglio segnalarvi questa chiave paradossale, assurda, paurosa, della cessazione della vita corporea. Fatelo come esperienza, pochi minuti, e vedrete che comincerete a diventare più grati alla vita, e soprattutto più riconoscenti, perché stranamente non ricorderete più le cose non belle, sofferenti che avete passato, e anche quelle che passate ovviamente, ma vi verranno in mente, e vivrete al presente, le cose belle che vi accadono. E voi non ve ne accorgete quante cose belle vi accadono, ma soprattutto non sapete gustarle. Avete fatto caso questa vostra primavera, così non esistente, questa estate improvvisa, che fiume di colori, di tinte, di fiori, che sta invadendo questa vostra città. E' una cosa magica. Sì, la terra sta cambiando, ma questo non toglie che la natura prosegue nella sua bellezza. Osservate i fiori di oggi, di ieri, di domani, e vedrete che è veramente una gamma di colori di tinte che voi non potete neanche immaginare, neanche il migliore dei pittori potrà mai fare, o imitare, o copiare colori del genere. Ecco, questa capacità di amare la vita, di amare il bello, di riconoscere soprattutto che l'altro di cui avete paura o anche un po' di disprezzo, oppure che non valutate abbastanza, anche l'altro ha la stessa paura, e se non vi capisce o vi rifiuta, e questo non è una cosa severa, una cosa grave, perché non potete essere accettati da tutti, prima di tutto perché siete imperfetti come gli altri, e poi è così bello imparare a essere rifiutati, perché se andate a fondo al rifiuto, voi capirete che il rifiuto nasce dall'altra parte o anche da voi stessi, può essere una proiezione vostra, perché a volte fate voi in modo da essere rifiutati, ma ammesso che questo non avvenga e avviene il rifiuto, questo rifiuto vi insegna veramente una gamma di cose infinite, prima di tutto, che appunto potete non essere accettati, perché voi siete accettati anche a prescindere dagli interessi comuni che l'uomo ha per un fatto di vibrazione, per un fatto di feeling, direste voi, quindi se non siete accettati voi vibrate su un'altra gamma, inferiore, superiore, non ha importanza, in un'altra linea di corrente e di pensiero anche, ma questo rifiuto deve insegnarvi che va lo stesso accettato e l'individuo che lo propone o lo espone che la ragione è più profonda e andando a ricercare la ragione più profonda non dovete fare altro che anzitutto cominciare a capire che la cosa più importante della vostra vita è quello di sapere chi siete, come vi comportate, cosa pensate di tutto ciò che vi è successo e vi succederà e più conoscerete voi quei vostri difetti, le vostre carenze, più l'altro, quello che vi rifiuta, diventerà, non dico il solito maestro, diventerà una persona da considerare alla pari di chi vi accetta o che sembra accettarvi. Perciò questa maniera di comunicare con gli altri nasce appunto da questa riconoscenza verso la vita, questo riconoscere la paura che invade tutti gli uomini di fronte al decesso perché non servono le nozioni, le istruzioni, le comunicazioni più o meno medianiche, reali o artefatte per convincervi che c'è un prosieguo della vita. Però allargando la vostra consapevolezza non dovete più essere convinti, voi cominciate a non aver bisogno di essere convinti, cominciate a capire che non siete quello che apparite allo specchio o di fronte ai vostri cari, ai vostri amici, siete qualcosa di diverso, cominciate a conoscere voi la vostra essenza, la vostra profondità e cominciate a capire che questa essenza, questa profondità non può aver fine perché non è fatta di materia né di energia mediocre, è un'energia purissima e allora come può finire? Non può finire. Allora sarebbe bene fare in modo che questa consapevolezza, questa coscienza di ciò che siete diventi amica e compagna di voi in tutti i momenti della vostra vita e questa consapevolezza vi farà capire meglio non dico la grossa parola del perdono che sarebbe una parola troppo grossa perché voi veramente non siete in grado né dovreste essere di perdonare nessuno ma di accettare chi vi ha fatto del male comprendendo le ragioni comprendendo quanto vi è servito comprendendo quanto anche non vi è servito perché non avete voluto sentir ragione ma tutto ciò non fa altro che insegnare una cosa difficilissima l'amore c'è anche un maestro che parla che l'amicizia è più grande dell'amore è una banalità questa che vi racconto e vi dico ma è una realtà non so se avete avuto il pregio o l'avrete di avere un amico o un'amica nel vero senso della parola bene se avete avuto la fortuna e il merito di conoscere questo sentimento voi dovrete anche riconoscere che è superiore a qualunque tipo di amore sia di genitore sia di marito sia di moglie sia di figli è superiore perché l'amicizia è veramente l'amore incondizionato l'amicizia così rara però analizzate anche la capacità e la possibilità di avvicinarvi a questo approccio di amicizia perché se no diventa tutto molto mondano molto banale molto fatto di interessi tutto ciò che vi muove è fatto di interessi di ricerca di applausi o di stima che voi non sempre vi sapete dare perché l'autostima equilibrata è un dovere mentre voi spesso non osservate questo dovere non è un diritto è un dovere e che significa l'autostima che è un dovere significa accettarsi conoscendoli con i propri limiti quando voi cominciate a riconoscere i vostri limiti e entrate in questa consapevolezza voi cominciate a volervi bene anche con queste mancanze con queste carenze perché già la conoscenza del limite fa quel magico crea quel magico potere di sminuire questa poca stima che a volte avete di voi l'inizio di conoscere i limiti significa l'inizio di accettarli e anche solo l'inizio di accettarli significa cominciare inconsapevolmente o consapevolmente animarli ad attenuarli a rendervi veramente non desiderosa di superare di diventare buoni bravi accettati da tutti no no nulla di tutto questo deve essere un limite che voi conoscete che vi portate dietro da decenni e che forse non abbandonerete nemmeno non ha importanza sapete che c'è diventa un compagno come pure la coscienza che non morirete mai